Buongiorno da... Milenia da... Morgana! E come siamo allegri oggi Morgana, come mai? Perché andiamo ad aprire i ronfi! Ma cosa sono i ronfi? Sono questi animali pucciosissimi Veramente? Non so se tutti li conoscono Io quando ero ragazzina 9-10 anni più o meno c'era il corriere dei piccoli e c'erano le storie dei ronfi Io adesso non so da dove saltano fuori però ho... E io qua a casa ne ho un po' di storielle dei ronfi Certo, sono le mie, quelle del corriere dei piccoli dei miei Infatti, proprio in edicola Ah, è vero! C'erano anche questi libricini con i giochi dei ronfi e anche tantissime storielle Quindi io, anche se sono una 2000 Io comunque li amo perché avendoli scoperti dalla mamma Ma che ne stanno i 2000? Avendoli scoperti dalla mamma mi piacciono tantissimo Allora, queste bustine le abbiamo trovate in un supermercato e costerebbero 2,50 euro a bustina Noi invece erano in offerta a 1 euro praticamente Penso che sia una collezione Adesso stavo cercando di capire Penso che sia una collezione abbastanza vecchia e loro volevano darla via Questi sono i ronfi che si possono trovare ma io penso che dentro ci sarà una checklist Sì Quindi apriamo Dentro praticamente c'è dentro All'interno un ronfo 3D uno stickers e un presenta ronfi Ah sì, probabilmente sarà una card o qualcosa In ITEM? Sì Allora io apro questo qua che c'ha dell'appiccicoso qua Tipo del... Ah sì Allora Vediamo un po' cosa trovi Vediamo eh Allora Ah ecco, questa è la checklist Allora Ah ecco, vedi questo qua è il libretto che diceva Morgana Giocolandia Ogni mese ne dico la Giocolandia con l'avventura dei ronfi e tanti bellissimi giochi Sì, infatti qualche volta l'abbiamo preso a Morgana questo Ronfi Bellissimo Noi siamo i ronfi I tuoi nuovi fantastici amici, collezionaci tutti Peccato che non li potremo collezionare tutti Oh, guarda, ce n'è uno speciale Ronf Ah, Ronfus ronfo È il più ronfoso di tutti i ronfi Porta sempre un cuscino speciale che al buio si illumina Ti farà compagnia di notte Poi c'è il ronfo limpionico C'è il ronfo preistorico C'è il ronfo preistorico C'è il ronfo cuoco C'è il ronfo pittore C'è... Rocky ronfo Questo qua sembra l'escursionista Questo è quello che va a fare il bagno Questo qua fa i giochi tipo il cuciverba Lili ronfina La ronfina Mamma mia E questo... Ah, super ronfo Bellissimo, voglio trovarlo Andiamo a vedere che abbiamo trovato? Sì Ronfina Oh, la bimba Che carina Allora Questo è il suo adesivo Lili ronfina La più bella del ronfaio Nooo Ma che bella Guardate come sono fatti bene Che bella È carinissima Sì, sono simpaticissimi loro Davvero Poi Quindi abbiamo trovato la bimba La ronfina Allora Qua abbiamo sempre la checklist Nooo Che fortuna Morgana Quello che si illumina Che carina che è È bellissimo Sì Dai, è fantastico Dopo proviamo Proviamo a fargli illuminare il cuscino La checklist No, questo è l'adesivo È adesivo Bellissimo Sarebbe bello trovarlo doppio questo qua Che si illumina Lo voglio anch'io Buon, io apro il mio ultimo Allora Questa La checklist La checklist E qui abbiamo Il ronfo cuoco Cookie ronfo Cookie ronfo Che carino No, ma che carino Che poi io Non ho anche ben capito Che tipo gli animali sono I ronfi Tipo delle volpi Con il naso No, bellissimo La checklist Intanto si vede Nata se ne un ronfo Sì Il ronfo Limpionico Sì, che carino L'hai fatto vedere? Sì Questo Number one Dai, che bello C'è la Bellissimo Poi il mio Ultimo Non posso Il ronfo è saltata fuori Così da nulla Doppio Doppio No Sì Rocky Dai, ma di cinque Neanche uno doppio È andata bene direi Bellissimo Bellissimo Ronfo Escalate Stai che lo facciamo vedere bene Bellissimo Bello Allora Adesso Mettiamo No, adesso Mettiamo un attimo In In pausa In pausa E vediamo Se riusciamo Anche perché comunque Non è molto buio Vediamo se riusciamo A farvi vedere Il cuscino Che si illumina Arriviamo subito Allora Questo è il cuscino Del ronfo Che si illumina Vedete Spegni anche con la luce di lei Morgana Lo vedete Dai, ma è troppo carino Troppo Ci piace Boh Riaccendi le luci Morgana Così facciamo il saluto Dai, ma sono Uno più bello Sì, l'effetto è durato poco Perché l'abbiamo tenuto poco sotto la luce Comunque sono Uno più bello dell'altro Peccato non aver più la possibilità Di trovarli Perché Erano gli ultimi praticamente No, beh Ce ne erano una scatola piena Sinceramente Ma io non pensavo Che potessero essere così carini Bellissimi Sì, sono veramente Molto, 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 molto belli Proprio anche I loro adesivi Sono bellissimi Ok Ci siamo? Quattro e manca uno Di che cosa? Di adesivo Sarà finito sotto da qualche parte Allora, ecco Salutiamo Speriamo che il video vi sia piaciuto Magari scriveteci Quale ronfo vi è piaciuto di più di tutti Tra ronfina Se conoscevate i ronfi Sì Se conoscevate i ronfi Perché Il tuo preferito Il mio preferito? Ronfo cuscino Quello col cuscino Avevi qualche dubbio? Quindi Noi vi salutiamo Vi mandiamo un bacio grosso Vi ricordo Il giveaway Al raggiungimento Dei 23.000 iscritti Quindi Iscrivetevi 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 Noi vi mandiamo un bacio grosso E ci vediamo al prossimo video Ciao